Seduta del 23 luglio Punto nascita di Carmagnola La manovra finanziaria esaminata dal Cal Nel corso della seduta i rappresentati degli enti locali hanno espresso la loro preoccupazione agli assessori presenti in aula sulla mancanza di risorse e troppi tagli al settore sociosanitario e ai trasporti Sempre sulla manovra finanziaria la Commissione Bilancio si è riunita durante tutta la settimana per un serrato confronto sul tema Il Consiglio regionale si sta adeguando rapidamente alla normativa sulla trasparenza dell'amministrazione e sull'accesso ai dati pubblici Sul sito web del Consiglio è ora presente una sezione dove consultare tutte le informazioni sul personale, i bandi di gara, i bilanci e su quanto indicato dalle direttive nazionali I cittadini avranno dunque uno strumento in più per controllare l'operato del lente Un altro passo avanti verso un'amministrazione sempre più trasparente Dalla carrozza all'aereo Più di 50 scatti d'epoca per documentare i cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo stesso nei viaggi, nelle invenzioni e nei mutamenti di costume durante un secolo di storia Questo è il tema della mostra fotografica dalla carrozza all'aereo I piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960 Le immagini storiche, dal 3 al 31 agosto, saranno esposte nella galleria dello Shopping Center Mondovicino di Mondovì I piemontesi e i migliori